Le aziende del Nord hanno scoperto e si stanno entusiasmando di guaiere invisibili. Volevo dire a tutti, tra gli altri progetti che abbiamo particolari, ho citato quello che accadrà in mezzo al mare, abbiamo una novità importantissima. Un'altra persona, un altro nostro angelo che abbiamo imparato per strada è l'Area Piteglio, che ci ha offerto una piattaforma, saremo tutto il nostro centro oggi, il cellulare, attraverso Mappina. La stessore Mappina, che è lo straccio di una volta, una piccola mappa, ma è anche la Mappina, voglio, ad alto tasso di batterio a me in cucina, ve lo dicevano gli sciarri ieri sera. Mappina è la mappa alternativa di Napoli. Noi siamo su questa mappa, quindi siamo, è vero, visitabili da tutte le parti del mondo, basta cliccare tutta la nostra mappa e cerchiamo di dare anche a voi che sostenete con le vostre iscrizioni online dei siti servizi in più, e ne sono tanti quest'anno. La mappa online è importante perché, mi hanno detto lo scorso anno, è bello il catalogo, ma è anche importante, se sto con il cellulare, sapere cosa accade a via Boerio piuttosto che al centro storico e attraverso questo lo faremo. Abbiamo due premi quest'anno, già dallo scorso anno, il premio di...